salve sono susi e benvenuti sul mio canale oggi vi faccio vedere come trasformare un vassoio datato in un vassoio moderno per prima cosa lo smontiamo poi togliamo anche i pomelli e iniziamo a carteggiare per rendere la superficie un po' più ruvida in modo che così la pittura rimane ben impregnata poi pulisco con dell'aceto per togliere tutti i residui di polvere e passo un fondo poi pulisco anche le maniglie e il vetro perché voglio dipingere anche le maniglie non mi piacciono dorate ecco ora passo, ho scelto uno smalto bianco vi consiglio sempre pitture all'acqua perché non puzzano ho dato una prima mano e poi dopo l'ho aspettato che asciugasse circa un 12 ore e poi ho dato un'altra mano infatti come vedete non è omogenea poi ecco ho dato la seconda mano ho dato un'altra mano qui si vede un'altra mano e poi ho dipinto anche le maniglie e anche per le maniglie ho dato due mani di pittura poi ho cominciato a fare il disegno da mettere nel vassoio ma voi ovviamente potete fare un decoupage oppure usare una stoffa fare quello che volevo una foto qualsiasi cosa io ho deciso di fare un dipinto anche se non sono un artista però ci ho provato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mettiamo il vetro il disegno ovviamente questa è la parte dietro avevo provato a fare un altro disegno ma è venuto il remus grazie per aver guardato il mio video e alla prossima ciao ciao